Sono Barbara Scandella, rappresentante di Confesercenti, faccio parte del Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Torino. Negli ultimi cinque anni il mondo del lavoro si è modificato molto e la pandemia non ha fatto altro che accelerare ulteriormente questo cambiamento, portando inevitabilmente la necessità di sviluppare nuove competenze nel mondo del lavoro. Tra queste sono fondamentali le competenze trasversali, le cosiddette soft skills, come la flessibilità, il pensiero critico, la capacità di collaborare, le competenze relazionali e la comunicazione e la creatività. Una su tutte si è dimostrata essere fondamentale in questo tempo, e cioè la capacità di resilienza, che è la capacità da parte del lavoratore di sapersi riorganizzare positivamente in seguito ad un cambiamento o ad una crisi. Nell'appoggiare i giovani e le giovani che oggi si affacciano al mondo del lavoro, dobbiamo ricordare loro che il cambiamento appena iniziato non terminerà e sarà quindi necessario, durante la loro carriera lavorativa, investire continuamente nelle loro competenze, affrontando percorsi di formazione. Il Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Torino sta sviluppando nuove progettualità rivolte alle giovani che si affacciano al mondo del lavoro o che intraprendono un percorso di studi volte a indirizzarle verso percorsi propedeutici alle nuove professioni del futuro.